Oggi vengono ricordate tutte le donne vittime di violenza. Fabio Rabacci è la madre di Jennifer Sterlecchini. Lei ricorda ogni giorno sua figlia, ma vuole anche dire che in tanti hanno dimenticato quella tragedia. Sì, io veramente non volevo parlare solo di mia figlia Jennifer, ma anche di Anna Carlini, Monia Di Domenico, Ludovica e Marina Angrilli, che sono state uccise tutte e due. Quindi queste donne a Pescara vengono un po' dimenticate, cioè non se ne parla. E sì, ok, le scarpette, i ponti, tutto quello che vogliamo, il rosso. Però noi chiediamo forse più dagli altri palazzi di informarsi di più e di interessarsi di più a queste donne. E anche oggi sono state uccise due donne. Questo chiediamo, che vengano ricordate, ma che venga fatto qualcosa di concreto. L'ultimo post che scrisse mia figlia su Facebook era proprio per la violenza sulle donne. Ed è lei, è stata ammazzata il 2 dicembre. Questo, il ricordo di lei, che si batteva comunque anche lei per queste cose. Isabella Martello lotta ogni giorno per ricordare Anna Carlini, sua sorella che è scomparsa in un'estate calda sotto un tunnel della stazione di Pescara. Anche lei dice giusto ricordare, però molti si sono dimenticati di queste tragedie. Sì, queste donne vanno ricordate tutte. Ed è anche importante, anche per far capire, che oggi questo è un tema molto attuale, che ancora sembra non risolversi. Io voglio lanciare un messaggio innanzitutto alle donne denunciate, perché anche uno schiaffo non è dire non lo faccio più, ma è un segnale. Quindi di trovare il coraggio di denunciare, perché l'amore comunque fa sorridere, non lascia segni. Anna, Jennifer, come tante altre donne, sono state proprio ammazzate per violenza. Io mi aspetto proprio dalle istituzioni che veramente qualcosa cambi, perché con queste sentenze che ultimamente si fanno, il valore della vita non vale niente. La violenza è la forza degli incapaci.